Sono uscite le informazioni sulle SBS del volume 108 di One Piece. Per chi ancora non lo sa, le SBS sono un trafiletto del manga che appunto troviamo all'inizio di ogni volume dove Oda risponde alle domande dei fans che vengono raccolte dagli editor e poi gliele fanno e lui deciderà a quali rispondere e come pubblicarle e quali non rispondere perché magari per motivi di trama non si può fare ovviamente. Da queste SBS sicuramente due informazioni hanno colto il mio interesse, se prima avevi la mia attenzione adesso è il mio interesse, perché ce ne sono davvero due che possono aprire anche a dei discorsi di trama molto molto interessanti. La prima è assolutamente quella sul passato di Mioc, un Mioc che ha un soprannome, Cacciatore di Marines, e appunto quando gli chiedono il significato Oda di questo soprannome lui dice che deriva da un rancore che lo stesso Mioc ha nei confronti della marina, perché lui fu tradito e questo tradimento lo segnò davvero nel profondo. Infatti noi comunque sappiamo e vediamo di un personaggio molto solitario, di un personaggio che non si fida di nessuno e che ovviamente va in modo eremitico a chiudersi nella sua isola. E tra l'altro noi sappiamo che lui accetta di entrare nella flotta dei sette semplicemente perché non vuole che la marina gli rompa le scatole e quindi lui dice io entro nella flotta e la marina non mi fa niente. Successivamente quando la marina attacca Mioc perché la flotta dei sette è stata abolita, allora lui trova un'altra strada anche affiancato da Crocodile che comunque è uno che potremmo vedere in modo speculare a livello di puzza sotto il naso, non mi fido di nessuno, voglio vivere in un certo modo, che trovano il modo di essere diciamo lasciati stare dalla marina andando da Barghi che poi è l'imperatore, quindi gli imperatori non vengono diciamo toccati a meno che non succeda qualcosa di clamoroso. La seconda informazione molto interessante riguarda Morgans, il giornalista. questa però è un'informazione che io pensavo che Oda avesse già dato in passato, non so perché l'abbia riproposta, forse noi stessi abbiamo elaborato il pensiero che adesso ha detto Oda e poi ci abbiamo azzeccato, però io penso di averla letta da qualche parte questa informazione, non so se sia un effetto Mandela. Comunque Oda ci conferma che non è un mink Morgans ma è un umano che banalmente ha mangiato il frutto Zoan, modello Albatross e che tiene sempre in modalità ibrida proprio per non far vedere la sua parte umana, il suo volto umano e lo stesso Oda si chiede ma chissà che forma ha da umano? Allora qua ve lo dico subito, lui lascia intendere il buon Oda che ancora non sa che forma umana dai e probabilmente non gliela darà mai. Questo è quello che lascia intendere, ma siamo sicuri che lui non abbia già un piano per lo stesso giornalista? Sarebbe un po' strano e anche brutto non vedere chi si cela dietro, qual è il suo passato, perché comunque noi sappiamo che lo stesso Morgans a 16 anni, a 16 anni scrisse l'articolo su God Valley, scrisse l'articolo, cioè comunque noi lo vediamo nel flashback di Kuma dove Gini, Vankov e Kuma parlano di questa cosa e stiamo parlando di un personaggio che già a 16 anni faceva quelle robe lì e che adesso è proprio diventato l'uomo dell'informazione mondiale, non esiste nessuna fonte diversa da lui, fonti che lui prende, manipola, gira, mente, dice bugie e poi dice delle false verità, dice delle cose molto particolari che influenzano l'intero mondo di One Piece e vogliamo che un personaggio così non abbia perlomeno un trafiletto, un racconto, un qualcosa che ci faccia dire ok e lui ha fatto questo perché ha fatto questo e come sta ottenendo tutte queste informazioni, tutto questo potere? Le teorie sul suo conto ci sono già, anche io ne ho fatte, c'è chi dice che possa essere Rox per quell'associazione a Rox che è un uccello e che poi l'Albatros potrebbe ricordarlo ma se Oda gli avesse dato il frutto del Rox sarebbe stato troppo palese, è una cosa che sinceramente non condivido anche se ha quel qualcosa di affascinante ma non la condivido, il mio pensiero fu quello che lui era una specie di ex Roger perché non dico che era proprio un pirata dei Roger ma nel tempo, nella storia, nei racconti ci sono sempre quei giornalisti che seguono l'eroe se ci pensate, quei giornalisti che si interessano alla storia della parte protagonista in un certo senso e che quindi gli chiedono di viaggiare con loro per documentare tutto quello che fanno. Magari lui in passato chiese a Roger di poter viaggiare con lui, di fare l'ultimo viaggio di Roger per poter documentare tutto quello che è accaduto, tutto quello che poi Roger ha scoperto. Certo vorrebbe dire che lui sa tutto ma infatti una persona del genere potrebbe davvero sapere tutto, l'informazione e potere, ricordiamocelo questo. Ovviamente la soluzione più semplice è che sia un personaggio sì influente nel mondo di One Piece ma che ha sempre seguito il suo percorso, è il classico giornalista furbo che ha costruito una rete incredibile di contatti, infatti viene invitato anche al matrimonio di Big Mom, quindi non è che è un personaggio una nulla e anzi vediamo come conosce letteralmente chiunque nel mondo di One Piece, quindi potrebbe essere quel personaggio che vive una vita parallela alla trama ma che nello stesso tempo la influenza ma non ha un passato roxiano o rogeriano, ecco mettiamola così. Però è affascinante la parte del giornalista che accompagna il viaggio. Prima di parlare di Mioc che voglio lasciare alla fine per fare un discorso generale e molto più fluido, vediamo le altre informazioni interessanti che ci dà il maestro Oda. Ci ha fatto vedere la forma di Ivankov se avesse mangiato il frutto di Kaido, se vi ricordate Ivankov stava per mangiare il frutto di Kaido, ma Big Mom gli lo ruba lì a God Valley e praticamente Oda ha preso una delle fan art che ha trovato in giro sul web e l'ha messa lì perché letteralmente ne erano usciti di meme di quel genere lì molto divertenti, Oda ce lo conferma che sarebbe stato parecchio strano come personaggio. Come in ogni SBS o in quasi tutte le SBS, Oda disegna la forma umana di un'arma. Questa volta ha disegnato la forma umana della spada di Roger, la Ace. Parecchio cazzuta, parecchio cazzuta devo dire. Un altro disegno divertente è la risposta la domanda, ma se Garling non si tagliasse barba e capelli letteralmente come sarebbero? Ci fa vedere questo disegno che sarebbero uniti a cerchio, bellissimo, sembrerebbe quasi una spada o una tazza. Ci viene dato ufficialmente il nome della nave della Cross Guild, quella bellissima nave con la polena faccia di Buggy che ha triggerato tantissimo sia Crocodile che Mioc e si chiama Big Top Blasters. Blasters non ha una traduzione, non ha una traduzione letterale italiano-inglese, inglese-italiano, però comunque sappiamo che blastare ha quel significato di distruggere del tipo io ho un'opinione, tu me la contrasti distruggendomi totalmente, umiliandomi, quindi mi hai blastato. Ecco, è più o meno quello che faccio sempre io. No vabbè, scherzo ovviamente. È molto interessante perché Big Top Blaster, il grande migliore blastatore, no? È messa su una nave di Buggy, è molto molto interessante. Che cosa blasterà il buon Buggy? Che cosa umilierà nella storia? Mettiamola così. Oda ci conferma che i tre giganti che hanno aiutato Adoara nel post-buster con la recuperare tutti i vari libri lì nel fiume sono Ajourdin, Gert e Goldberg. Graficamente già l'avevamo capito perché si riconoscevano, però qua Oda ci dà una conferma in più. Sappiate che questi tre giganti fanno parte della ciuma dei nuovi pirati giganti di Elbaf, capitanati da Ajourdin, appunto, che fanno parte della flotta di Luffy. Quindi comunque è una cosa interessante. Poi non so chi è che fa queste domande, chi è che ha l'interesse di chiedere queste cose, però qualcuno chiede, ma la ragazza che abbraccia Shanks in questa vignetta quando lui si trova a Elbaf e stava per andare via, anzi stava per andare a tirare giù Kid. Chi è? Come si chiama? Che cosa fa? Oda dice che si chiama Kindled Linaria e che è capitano dei pirati Night Butterfly. Bellissimo come nome, Night Butterfly. Bello. Shanks la salvò da bambina e lei vivendo nel mito del suo salvatore, quindi Shanks, fondò questa ciuma pirata e diventò una piratessa. Ed il suo soprannome, Kindled, significa tipo accesa o tipo fiamma accesa. È come dire che quando arriva lei infiamma tutto. Quindi non so, sarà una piromane o non so, magari qualcos'altro. No, invece c'era una terza informazione che però non è che mi ha incuriosito, mi ha fatto un po' incazzare perché questa è la paraculata più grande che Oda abbia mai fatto, una delle più grandi dell'ultimo periodo. Le orecchie di Kuma in verità non derivano dal frutto ma sono solo i suoi capelli che escono fuori dal cappello e tipo sono legati immagino con dei cordini che fanno sembrare che lui sia un orsacchiotto. Oda è un grande paraculo. Dillo che hai ciccato durante il disegno della scena di Bonnie dove gli hai messo le orecchie per le orecchie e non le aveva. Dillo che hai fatto la cavolata e non giustificarti. Dice no ma in verità è una conciatura. Sei proprio un paraculo. Adesso mettiamoci comodi e parliamo di Mioc perché comunque se Oda ha inserito questa cosa del tradimento ha una certa importanza perché comunque non stiamo parlando di uno sprovveduto. Stiamo parlando del più forte spadacino del mondo. Stiamo parlando del forse il più grande rivale che Shanks abbia mai avuto. Stiamo parlando di quello che ha allenato Zoro. Di quello che ha messo principalmente all'inizio alla prova Zoro e che Zoro dovrà sconfiggere. Comunque superare. Non stiamo parlando del primo arrivato. E allora io non voglio neanche andare a sindacare a dire chi è che l'ha tradito perché? Per come? Oddio di qua? No. Stiamo un po' più sul largo. Stiamo un po' più sul generico ma con un racconto affascinante. Già in passato avevo fatto un video su Mioc dicendo che era il guardiano del sole. Ok una roba del genere. Andatevelo a vedere che è molto interessante come video. Però nei scorsi giorni appena abbiamo letto di questa SBS ci siamo confrontati con un po' di persone no? E nel nostro privato ci siamo raccontati un po' di cose e poi è uscito fuori una roba molto molto affascinante. Sempre in riferimento poi a quel ragionamento che già in passato fecimo appunto su Mioc. Vi pongo prima un dubbio. Davvero vi pongo prima un dubbio. Anzi un punto di riflessione. Ma avete notato che la flotta dei sette non è casuale? Vi spiego. Allora Gimbe entra nella flotta dei sette perché fa parte dei uomini pesce che sono una razza che è contro o meglio che subisce il contro da parte dei umani del governo. Però si accomunano. Poi vediamo un crocodile che entra nella flotta dei sette. Crocodile è riconosciuto come un personaggio che nel sottobosco di One Piece comanda la criminalità organizzata e quindi un qualcosa che va contro la gestione del governo uno stesso. Kuma. Kuma. Un baccania che è proprio la razza che il governo letteralmente voleva sterminare se la porta in casa facendogli fare il flottaro e tenendolo lì buono e costruendoci un'arma su di lui. Buggy. Buggy. Ex Roger. Diventa un flottaro. Boa Hancock è un personaggio molto ingombrante. Tra l'altro gloriosa. Era un ex Rox e viene ospitata appunto nell'isola di Boa Hancock. Quindi comunque c'è un qualcosa di lei che la rende nemica del governo. Moria ospita nella sua isola Ogbak che è probabilmente quel dottore che fu esiliato dalle sue ricerche proprio dal governo perché erano ricerche pericolose. Doflamingo ovviamente. Ex drago celeste che conosce dei segreti ed è diventato un flottaro. E Nihok solo perché cacciatore di Marines è stato preso nella flotta o solo perché solo perché lo spadacino più forte o c'è qualcos'altro di più. Pensate c'è questa cosa perché comunque potrebbe essere strano dire tutti i personaggi che io governo dovrei eliminare perché hanno informazioni hanno diciamo un lignaggio di un certo tipo perché me li porto in casa. C'è qualcosa che temono in loro. Quindi si sono portati in casa tutti i personaggi che loro in un certo senso temono a livello di informazioni. E perché Nihok non è da... cioè dovrebbe essere da meno? Adesso ve la racconto nel modo più riassuntivo possibile che comunque fa riferimento a quel video che feci in passato ovviamente. E poi se volete il live la approfondiamo quanto vi pare perché possiamo davvero parlarne tantissimo. E poi alla fine vi lascio una chicca molto interessante che è una roba un po' folle ma chissà se. Nella storia reale del nostro mondo esistevano i templari, i crociati che facevano parte dell'esercito del papato quindi della chiesa e non dell'esercito del re o dell'imperatore. Ok questa è una cosa molto importante e quindi potremmo pensare che Miok è erede di una delle famiglie templari che faceva parte della diciamo componente bellica e armata del culto di Nika e chi è che diciamo era il fautore del culto di Nika? Ibakania di cui Kuma è l'ultimo rappresentante almeno da quello che ci viene detto. E quindi sarebbe molto interessante questa cosa che la famiglia di Miok nel passato, tra l'altro Miok possiede un'isola, possiede un'isola quindi non è che è una roba da qualsiasi persona, quello è ricco sfondato e ha un'isola con un castello. Già questo è molto interessante perché i templari erano dei nobili, erano dei nobili che però erano diciamo alleati del papato appunto, ok? Quindi non erano delle persone qualsiasi e noi nel mondo di One Piece sappiamo che ci sono diciamo i preti, letteralmente Kuma diventa un prete che tra l'altro ha una croce, ha un simbolo che praticamente ha le stesse diamanti della spada di Miok, che comunque ha quella forma lì, una croce, Miok va in giro con una croce, quindi molto molto templare come cosa e che magari, perché succedeva, parte dei crociati e dei templari diciamo si infiltravano anche tra le file dell'imperatore e del re, perché questo? Perché comunque essendo dei nobili avevano anche modo di influenzare appunto la parte del reame, se vogliamo chiamarla così e perché no? Allora nel mondo di One Piece tempo indietro la famiglia di Miok o parte di essa si era infiltrata nella marina e nel governo per poter appunto continuare il culto di Nika ma questa fu tradita da qualcuno e quindi Miok fu quello che fu tradita in qualche modo o qualche suo familiare, noi non sappiamo nulla del suo passato quindi può essere qualsiasi cosa, ma prendete il concetto generale come Miok templare di Kuma letteralmente in questo momento che è il culto di Nika, quindi lui protegge Nika in realtà, cioè Luffy e l'abbiamo visto fare in realtà, tra l'altro addestrato il suo braccio destro, il templare di Nika, Zoro. Pensateci a questa cosa e vi do la chicca finale, dai così poi ce ne andiamo. Tanti in tanti in tantissimi hanno detto che Miok ha letteralmente i stessi occhi di Im, Im stessi occhi di Miok, cioè e quindi davano molta parentela in esso e ci sta, ci può stare, è folle ma ci può stare, ma allora Imu ex templare di Nika, ex braccio destro di Joy Boy? Dai, pensiamoci anche a questo.